Facciamo un lavoro tutti insieme! Anna! 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 Signori qui, tanto come ci sono i portali! Anna Potenzio! Anna Potenzio, Anna! Facciamo sentire il paolo della Sicilia! Grazie veramente, grazie per tutto questo magnifico affetto. Ai portali, benvenuta a Catania. Noi siamo davvero emozionati. La prima cosa che voglio dirti, la parte mia, di cuore, di tutti i tuoi fan, sei bellissima, ma soprattutto sei una bella persona. Sei un'artista eclettica, una bellezza a 360 gradi, anzi direi una bellezza a 4D, così ti abbiamo definito. Facciamo un applauso, non è vero? Che bugiato! Non è vero? Sei un bugiato, cioè. Una bellezza a 4D, forse non te l'ha detto mai nessuno. Ma qua ci dobbiamo mettere... Chi ha il CD? Io. Il CD no? Non sono... Ecco che ti dobbiamo un pocio! Non c'è quanto un caos un medicino!! Però non c'è l'idea Problema PD? Ma il CD qua... Ma qui tutto è successo? Sì, vorrei dit Io